Andrea De Marchi è passato al Betco Chiesa, capitano del Calvisano, ha detto la facevamo più semplice, siamo partiti bene, poi i medici ci hanno tolto tante certezze. È stata una bella partita a parte vostra. Abbiamo cominciato un po' a fatica al primo tempo, abbiamo lasciato tanto spazio a loro, siamo stati poco aggressivi perché mani prosegue un po' diciamo, timoriti da come potevamo giocare loro. Poi durante la partita siamo cresciuti sempre di più, abbiamo fatto il primo tempo bene, poi siamo tornati fuori il secondo con la voglia di vincere. Peccato perché è stato un errore sciocco che ci ha portato via la partita. Dopo il calcio all'inizio dovevamo organizzarci un pochino meglio, poi sono stati bravi però ci è mancato veramente poco per portare a casa un bel risultato oggi. Senti, c'è più rimpianto o la convinzione che questa squadra possa fare bene durante tutto il campionato? Sicuramente c'è la certezza che possiamo fare bene. Ci sono gradissimo l'impianto per la partita di oggi perché le occasioni di vincere contro i campioni in carica ce ne sono poche. L'anno scorso l'abbiamo presa, vincendo la partita da Padova e quest'anno potevamo riprendercela ma ci è mancato poco insomma. Quindi sicuramente delle certezze ma anche un grande ramarico per la partita bassa. L'ora a testa bassa a lavorare perché sabato altro duro confronto valoregby. Anche se a Reggio Emilia la Toscana Aeroporti Medici di solito fa di belle partite. Sì, devo dire che è un inizio campionato molto duro per noi. Abbiamo incontrato le prime tre giornate, tre delle prime quattro l'anno scorso. Mettiamoci anche Rovigo in Coppa quindi le prime quattro abbiamo incontrato tutte adesso. Il dance ce lo siamo levati. Sì, insomma adesso abbiamo fatto un buon rodaggio, adesso possiamo partire. Abbiamo trovato dei problemi con Padova e abbiamo cercato di risolverli oggi. Insomma cerchiamo di continuare per una buona strada. Grazie e bocca al lupo. Prego, grappi.